A differenza dei miei coetanei statunitensi, io non ho mai dissezionato una rana. E per darvi un'idea di come funziona negli Stati Uniti, la PETA calcola che ogni anno vengano dissezionati 10 milioni di rane, solitamente rane leopardo. Che poi in realtà rana leopardo è un nome generico, cioè ci sono rane con nomi fighissimi. Bigfoot leopard frog, rana montezuma, Vegas valley frog, rana appariscente, Transverse volcanic leopard frog, insomma avete capito? Hanno nomi stupendi e sono anche un po' troppo simili tra loro per metterli sul gioco. Questo non è un video sulle rane, o meglio non è un video solo sulle rane, è un video su Luigi Galvani, ma prima sigla. Sai che è un maiale, sai che non è un maiale. Dicevo, la dissezione dalle rane l'ho vista in così tanti film e serie tv che ho tipo il falso ricordo di averlo un po' fatto e un po' ho sempre pensato che fosse più una roba tipo licei di super ricchi che possono permettersi rane vive. Che poi vi immaginate in Italia come sarebbe se dissezionassimo rane? Cioè dai, è un adolescente, è un bisturi tipo 13-14 anni e gli dici, eh ma taglia a pezzi questa rana, sarebbe divertente. Eppure, questa cosa degli esperimenti sulla rane l'abbiamo inventata noi. Se infatti cercate su un qualsiasi motore di ricerca, Ecosia, esperimenti rane, trovate sempre un certo Luigi Galvani, un italiano. Ora, se come me siete nati in Sardegna e dovevate tornare in Sardegna da Pisa e lo volevate fare in nave, d'estate siete abituati che voi andate nello splendido porto di Livorno e prendete il traghetto per la Sardegna. Se però provate a fare la stessa tarta d'inverno, e d'inverno la Sardegna è tipo un posto che d'estate è un villaggio turistico. Si sta benissimo, è pieno di gente, tutto costa tantissimo, e d'inverno il turismo non esiste. Che è una roba assurda, cioè io sono stato in Tasmania e c'erano quattro gradi e c'era il turismo, perché in Sardegna non c'è il turismo con quattordici. Comunque d'inverno non esiste il turismo. Per cui, se voi arrivate a Pisa e un giorno decidete di tornare col vostro scooter, e già fa freddo, arrivate al porto di Livorno, dove vi dicono guardi che la sua nave non è qui, la sua nave parte dal barco Galvani. E il barco Galvani è un porto commerciale, ed è un porto commerciale nel mezzo del nulla, e praticamente non è indicato perché i tir sanno dove andare. Per cui immaginatevi, già l'ho stressato, così sapete anche come ho avuto il primo attacco di riflusso gastrico. Vado a cercare questo posto, e vi parlo di prima del GPS, e mi trovo in una nave commerciale. Cioè, una nave commerciale è un posto dove lo spazio comune sembra il salotto di casa vostra. Tutti i camionisti, e vai a dormire in una branda, dove io spostavo il braccio, e avevo questo spazio tra me e il letto sopra di me. E' una roba di un claustrofobico, per cui mai più una nave commerciale nella vita. Questo è quello che Galvani mi ricorda. Luigi Aloisio Galvani nasce a Bologna nel 1737, e si laurea in medicina a 23 anni. Cos'era una laurea in medicina in quel periodo? C'è un bellissimo libro di Foucault, ma questo è un altro discorso. Era allievo di Jacopo Bartolomeo Beccari, uno abbastanza illuminato, uno che diceva che bisognava affidarsi alle nuove scoperte, che in quel momento era la scoperta delle ghiandole. Vabbè, era nuova. Che poi era allievo del maestro Malpighi, che era uno dei primi che aveva detto che bisognava lasciare la teoria umorale, che era quella di Ipocrate, per cui c'erano le zone molli, c'era uno scompenso tra la bile gialla, la bile verde, la bile rossa, insomma. Erano di quelli che ha detto bisogna iniziare a concentrarsi sulle parti più dure del corpo, anziché sugli umori. Su questa cosa degli umori, adesso accantoniamola, cos'amai ci torniamo in un altro video. Il giovane Galvani prende dai suoi maestri quest'idea che bisogna provare le cose con mano. E tra gli altri è anche dal professor Galeazzi, che poi diventerà anche il suo suocero. Ma perché vi parlo di Galeazzi? Perché è a casa di Galeazzi che Galvani conoscerà la sua futura moglie Lucia. Ed è sempre a casa di Galeazzi che parlano dal fatto che probabilmente l'elettricità ha a che fare col movimento. Lì la stava nascendo, però c'era un po' questa idea che l'elettricità desse la vita. Ora, siamo agli albori della conoscenza dell'elettricità degli esseri umani. Anzi, dell'elettricità in generale. Infatti, l'unica cosa che si è notata fino allora era che c'era un tipo di torpedine che era in grado di dare scosse elettriche. Per cui, sarebbe stato bello dimostrare che c'era una correlazione tra elettricità e vita. Il problema era come farlo. Ovviamente, mi piacerebbe dirvi che Galvani era allo stagno che guardava la bellezza dei fiori di loto e a un certo punto vede una rana saltare a un'illuminazione tipo quella di Bohr. Ma non è così perché ovviamente parliamo di rane morte dissezionate cioè di pezzi di rane di gambe di rane su un tavolo. Disseccai una rana la preparai e la collocai sopra una tavola sulla quale c'era una macchina elettrica dal cui il conduttore era completamente separata e collocata a non breve distanza. Mentre uno dei miei assistenti toccava per caso leggermente con la punta di uno scalpello gli interni nervi curali di questa rana a un tratto furono visti contrarsi tutti i muscoli degli arti come se fossero stati presi dalle più vehementi convulsioni tossiche. A un altro dei miei assistenti che mi era più vicino mentre stavo tentando altre nuove esperienze elettriche parve di avvertire che il fenomeno successe proprio quando si faceva scoccare una scintilla dal conduttore della macchina. Ammirato dal novità della cosa subito avvertì me che ero completamente assorto e meco stesso d'altre cose ragionavo. Mi accese subito un incredibile desiderio di ripetere l'esperienza e di portare in luce ciò che di occulto c'era ancora nel fenomeno. Adesso due cose veloci. La prima è che tecnicamente è l'assistente che ha scoperto però come si fa oggi il prof vabbè. La seconda è cosa vuol dire mentre toccavo per caso con la punta di uno scalpè per caso? Cioè tu hai una rana là e che in ogni caso la quantità di scoperte che iniziano per caso è incredibilmente alta nella storia per cui ok per caso hanno scoperto che attaccando un po' l'elettricità si muove la zampa e la rana e ovviamente a Galvani piaceva molto questa cosa per cui di rane ne ha dissezionate tante. per darvi un'idea si dice che tra il 1780 e il 1783 passasse 20 giorni al mese chiuso in laboratorio con i suoi assistenti e forse il fatto che tra i suoi assistenti ci fosse sua moglie aiutava? Chi lo sa? Insomma l'esperimento sulle rane convince Galvani che l'elettricità era la chiave che faceva muovere le mani che fosse in qualche modo imprigionata dentro il corpo e che gli permettesse di muoversi. Ovviamente come in tutte le grani scoperte molti le andarono a favore e molti contro. Per esempio Alessandro Volta quello che ha inventato la pila all'inizio era un grande sostenitore di Galvani e probabilmente anche lui ha iniziato a fare qualcosa con le rane e si è reso conto che se saltavi completamente tutta la parte dell'elettricità eccetera prendevi un arco e collegavi il nervo della gamba e la rana si muoveva. Tra l'altro siccome Volta era lì che faceva esperimenti con un arco bimetallico inizia a descrivere tutta una serie di cose del tipo ho notato che se mi metto l'arco bimetallico sulla lingua sento un leggero sapore di acido non pago di questo notò anche che se l'arco se lo metteva nell'occhio non avvertiva nessuna contrazione ma vedeva semplicemente delle luci cioè adesso dopo i cinque anni ti verrebbe mai in mente di metterti una cosa che potrebbe causare le contrazioni nell'occhio che poi apprezzo che fosse il suo occhio e non l'occhio di un altro tizio però insomma Galvani a volte iniziano a discutere di tutto quello che si poteva fare con le rane con e senza elettricità sulle rane con le rane per le rane e discussero e discussero e si arrivò a nulla di fatto e si arrivò a nulla di fatto perché in un certo senso avevano entrambi la ragione ora sappiamo che l'elettricità animale in un certo senso esiste ed è quello che si chiama potenziale di membrana e Volta di fatto inventò la pila basandosi su alcune delle intuizioni di Galvani infatti Volta capì che se tu avevi un alto amperaggio e un basso voltaggio riuscivi a tenere l'elettricità che poi voltaggio viene da volta quindi capite che sulla storia dell'elettricità è stato molto rilevante la riattribando avanti finché il nipote di Galvani Giovanni Aldini iniziò a fare esperimenti con l'elettricità sugli esseri umani ovviamente qual era il problema ti serviva un essere umano che fosse morto ma non troppo morto tipo le rane solo che a differenza delle rane gli esseri umani non sono così semplici da trovare per cui che faceva andava nelle qua forse diventa un po' macabro comunque andava nei posti dove c'erano dei condannati a morte e appena questi venivano uccisi li collegava l'elettricità qual era il problema? il problema è che eravamo nel periodo della ghigliottina e quindi finiva a collegare l'elettricità o a una testa mozzata o a un corpo mozzato alla fine quello che otteneva erano delle smorfi orribili invece quello che lui avrebbe voluto far vedere era il fatto che poteva riportare in vita qualcuno che l'elettricità era la vita e allora Aldini cosa fa? va nell'unico posto in Europa dove nessuno riesce mai a cambiare nulla che ne so un posto dove ancora usano due rubinetti uno per la calda e uno per la fredda e nessuno usa i doppi vetri cazzate così l'Inghilterra infatti in Inghilterra mentre nel resto di Europa si era passati alla ghigliottina ci usava ancora l'impiccazione e per chiarire se leggete un po' ricronica di condannati a morte il discorso era che si si volevano uccidere ma senza la ghigliottina era un modo pulito e considerato praticamente privo di sofferenza ma in Inghilterra diciamo che convince i giudici a farli collegare l'elettricità a uno appena morto impiccato l'esperimento fu un enorme successo perché riattaccato all'elettricità si dice che il tizio iniziò a respirare che il cuore iniziò a battere fu una cosa che per chi osservava era sconvolgente poi ci rimese le penne uguale però probabilmente come si fa oggi non in arresto cardiaco libero per un attimo il tizio era tornato in vita e come sempre succede nell'assurdo il tizio torna in vita e quella notte l'assistente di Aldini muore di infarto chiaramente nelle speculazioni perché lì è tornato l'incubo di questo che era tornato in vita dalla morte non devo dirvelo io ma fu proprio da questa cosa accaduta in Inghilterra che poi Mary Shelley venne a sapere attraverso un chirurgo dell'esperimento e poi scrisse Frankenstein e tutto il resto perché insomma siete giocatori di Maxor già lo sapete spero di avervi messo voglia di approfondire ulteriormente l'argomento io sto cercando di stare nei dieci minuti che non ci ero riuscito neanche oggi ma sto cercando di stare vicino ai dieci minuti per cui se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale e ah no ultima cosa mi sono dimenticato che negli Stati Uniti stanno cercando di smettere di dissezionare rane è questo perché una studentessa nel 2005 si è rifiutata di fare un esperimento su una rana e una corte ha stabilito che se una studentessa non vuole fare esperimenti su un animale bisogna dargli un modo di fare un esperimento simile con qualcosa che non sia stato ucciso per l'esperimento per cui insomma anche gli Stati Uniti stanno andando avanti e questo è davvero tutto grazie mille e a presto Kikriki è diverso in tutte le nazioni del mondo vabbè non andrò a caso però me lo potete mettere nei commenti se me lo ricordate qualcuno comunque sono bellissime queste presine sono in un B&B ah 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 ah